L'ho vista sinceramente un po' meglio rispetto all'ultima prova e secondo me abbiamo fatto un'ottima partita un'ottima partita ovviamente quando ci si confronta con queste squadre che arrivano con una grande autostima questa è una squadra che è arrivata a quarta ai mondiali e ha vinto la Coppa America e quindi contro questa squadra abbiamo fatto il massimo che potevamo fare in questo momento dobbiamo convincerci ancora di più che possiamo migliorare perché abbiamo grandi margini di miglioramento stasera ho fatto una riflessione e ho detto che questa è una squadra che ha grandi margini di miglioramento abbiamo preso l'amichevole come se non fosse l'amichevole abbiamo lottato fino al 95esimo tutti i ragazzi erano dispiaciuti ma erano anche secondo me consapevoli che la strada è questa la strada è giusta grazie a tutti